Bersì, allora? Ti piace Pescara? Eh sì, Pescara è una bella città, una città di mare, una città da mare. Ah perché siamo qui? Siamo qui perché tra un po' faremo una cosa bellissima, parleremo di teatro, di cinema, di che cosa significa essere o fare l'attore, impareremo anche a farlo, a sperimentarci su un palco davanti a una macchina da presa. Perché? Perché tutti in fondo coviamono un po' questo sogno di essere o fare l'attore, perlomeno di conoscere quali sono i meccanismi che stanno dietro a questo mestiere, a questa professione. Ah, quando? Eh, quando è l'undici e il dodici maggio. Sì, sì, è una masterclass, una masterclass molto, molto divertente, bella, piacevole, come con chi, come con chi, eh? Come si, ma con me? Sì, sì, certo, lo faccio io e mi chiamando qualcun altro. Io credo che sarà un'esperienza indimenticabile e se lo dice lei ci potete chiedere. Ti aspetto.